Inter Miami FC contro Inter Milano FC, il potenziale incubo degli addetti alla sovraimpressione televisiva. Mercoledì 10 agosto 2022. L'FC internazionale Milano, come molte squadre italiane, è impegnata nella solita tournée estiva, questa volta in terra americana, a Miami. L'addetto alla sovraimpressione del network ESPN è, come sempre prima delle partite, impegnato nel preparare le sigle per indicare le squadre. Si tratta di quelle piccole sovraimpressioni in alto a sinistra sul teleschermo che appaiono durante i match, per indicare il risultato, i cartellini, il minutaggio, ecc. Oppure quelle che scorrono più o meno velocemente assieme ad altre notizie sotto lo speaker di turno durante i notiziari. Ma oggi il nostro addetto è nervoso. Non riesce a trovare una soluzione. Le lettere a sua disposizione questa volta non bastano. E trovare una soluzione non è semplice. La partita in programma, infatti, è E no. Non può proprio mettere in un logico MIL contro MIA. I tifosi interisti questo proprio non potrebbero sopportarlo. Anche lui che è un appassionato di football, quello americano, e di basket, più che di soccer, questo lo sa. Un interista non vorrebbe mai che la sua squadra fosse presa per il Milan. Ma torniamo oggi e vediamo di capirci qualche cosa sul perché, in questo improbabile futuro, il nostro amico di ESPN si trova in questa ingarbugliata situazione. Il problema sta nel fatto che nel 2018 la MLS, la Major League Soccer, proprietaria di tutti i marchi delle squadre, le cosiddette franchigie, che militano nel campionato di calcio USA, ha deciso di chiamare la squadra di Miami Club Internacional de Football Miami e depositare contestualmente una serie di marchi in varie classi per le seguenti declinazioni Inter Miami CF, Inter Miami FC, Inter Miami nessuno dei quali, per varie ragioni che non staremo qui ad approfondire, risulta ancora registrato. A rendere il rapporto con l'FC Internazionale Milano ancora più romanticamente complesso e queste cose nel calcio succedono o se succedono e a dare alla vicenda un tocco di gossip che non guasta mai dobbiamo aggiungere che tra i proprietari dell'attuale Club Internacional de Football Miami che per la cronaca ha giocato la sua prima partita ufficiale il primo marzo scorso è Mr. David Beckham il quale ha speso uno scampolo del suo finale di carriera con la maglia numero 7 del Milan gli acerrimi rivali dell'Inter di Milano Per gli amanti delle statistiche, David Beckham ha collezionato 28 presenze nel Milan nella stagione 2009-2010, con due gol all'attivo Ora, se sul campo l'ipotetica partita che sta facendo passare un brutto momento all'addetto alle sovraimpressioni di ESPN difficilmente si giocherà in questi giorni si sta assistendo ad un bel match che verte sul nome di Inter di fronte al Trademark Trial and Adjudication Board dell'Ufficio Brevetti e Marchi statunitense Delle domande di marchio in campo alla compagine di Miami abbiamo già detto L'FC Internazionale Milano, con riferimento al nome Inter, vanta almeno una privativa già registrata c'è un marchio per lo stemma della squadra e due domande di marchio pendenti una per Inter Milano e una per Inter da sola Proprio con riferimento a questa ultima domanda è iniziata l'interessante disputa che ha avuto qualche spazio anche sui mezzi di informazione nostrani Paradossalmente, tuttavia, non è stata l'FC Internazionale Milano ad iniziare la disputa come magari ci si sarebbe aspettati ma è stata la MLS, titolare, come detto, delle domande di marchio per FC Inter Miami ed altre che ha presentato nel marzo 2019 un'opposizione contro la registrazione della domanda di marchio per Inter depositata dalla società milanese Nella sua opposizione, la MLS ha sostenuto che la domanda di marchio per Inter dovrebbe essere rifiutata per due motivi indipendenti 1. Inter è parola meramente descrittiva e 2. Esiste un rischio di confusione con i propri marchi Le argomentazioni sono varie e spesso tortuose ma possono essere sintetizzate per punti come segue a. Il nome Inter è comune per le squadre di calcio ed in effetti ci sono squadre di calcio chiamate Inter, tra gli altri, in Brasile, Croazia, Finlandia e Germania b. La parola Inter è semplicemente l'abbreviazione di International quindi non è distintiva c. La parola è semplicemente descrittiva d. A causa dell'uso diffuso del termine Inter nel calcio i consumatori interessati non associano il termine Inter ad una squadra di calcio l'Inter non è di per sé un indicatore di origine in relazione a prodotti e servizi associati al calcio e. La registrazione impedirà ingiustamente l'uso o la registrazione di altri marchi che incorporano la parola Inter Il procedimento è in pieno svolgimento ma una decisione preliminare a seguito di una mozione presentata dalla FC Inter di Milano è stata già emessa a gennaio 2020 dal Board Nella sostanza, in questa fase l'ufficio americano è stato chiamato dall'Inter di Milano a cancellare il claim di rischio di confusione proposto dalla MLS e a limitare l'opposizione al claim di sola mancanza di capacità distintiva Il Board ha dato ragione all'Inter di Milano rilevando che, in particolare sebbene ci siano diversi club in tutto il mondo che utilizzano Inter come loro nome ciò non soddisfa l'onere di dimostrare che la MLS ha un valido diritto anteriore e che in sostanza, almeno sotto il profilo del rischio di confusione il semplice fatto che vi sia un certo numero di club con il nome Inter non significa che l'Inter di Milano non possa avere diritti di proprietà sul nome Inter In quanto tale, l'ufficio brevetti e marchi americano ha respinto la richiesta ritenendo che la MLS non abbia adeguatamente invocato la sua richiesta ai sensi della sezione relativa al rischio di confusione Il procedimento può continuare anche su tale punto tuttavia pare destinato a restare limitato al motivo di opposizione per cui la parola Inter non può essere registrata correttamente perché è meramente descrittiva con la MLS che dovrà dimostrare che Inter non è parola degna di essere protetta come marchio Sarà interessante verificare come la questione andrà avanti e se l'Inter di Milano dovesse riuscire a prevalere ottenendone la registrazione verificare se farà valere il suo diritto al nome contro l'Inter di Miami L'insegnamento che al momento traiamo dalla questione è che l'ottenimento di un marchio in USA può riservare sorprese e costi non indifferenti Muoversi con attenzione sul registro americano con la collaborazione di un collega locale può permetterci di volgere a nostro vantaggio situazioni che sembravano compromesse Il deposito del marchio Inter successivo a quelli per Inter Miami è stato senza dubbio un'ottima mossa da parte dell'FC Internazionale Milano per sollevare la questione sulla titolarità del nome Inter In ogni caso, ahimè, in assenza di passi successivi ed aggressivi da parte dell'Inter di Milano contro l'Inter di Miami l'ottenimento della registrazione sul nome Inter da parte della società milanese non aiuterà il nostro amico dell'ESPN Tutto infatti pare suggerire che i marchi Inter Miami FC e Inter Milan FC coesisteranno sul registro americano e negli stadi con l'unica consolazione che solo il calcio ad agosto potrà generare il problema Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.